Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi mi trovo nella veranda che ho trasformato per l'occasione in una sorta di piccola serra. Dovete sapere che qualche giorno fa sono stata a comprarmi due varietà di rose che non possedevo. Queste due varietà sono per l'esattezza la Queen Elizabeth e la Rosa Nera. Erano due varietà che inseguevo da parecchio tempo e finalmente fanno parte della mia grande famiglia di rose. Come appunto vi ho detto, oltre queste due piante di rosa ho comprato delle bustine con dei semi, tra cui la stevia, la camomilla e dei fiori. Adesso vi faccio vedere come io li pianto. Ma prima la sigla e poi passiamo al video. Queste sono le due varietà di rose. Questa qua per l'esattezza è la Rosa Nera. E questa qua è la Queen Elizabeth. Le ho tenuti qualche ora in ammollo. Dopodiché le ho trapiantate in un buon terriccio universale mischiata a della terra. Ho messo un po' di letame maturo e quindi le ho trapiantate. Adesso non mi resta che attendere il loro sviluppo. Nel frattempo vi faccio vedere alcune delle rose che l'anno scorso io ho ottenuto con la talea. Qui invece notate le talea che ho fatto quest'anno di cui trovate il video. Mentre da questa parte trovate le talea che ho fatto di uva. Come vedete le gemme sono molto gonfie e prossime all'apertura. Ma a questo punto passiamo al video vero e proprio ossia piantare questi nuovi semi di fiori. Ho preparato a solito i vasetti e il semenzaio con un buon terriccio universale e a questo punto prima vi faccio vedere le bustine dopodiché le pianterò. Ovviamente segnando il nome di ciascuna varietà. di ciascuna varietà. Una volta che io avrò ottenuto le piantine ovviamente io le metterò direttamente in piena terra. direttamente in piena terra. direttamente in piena terra. Grazie a tutti. 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 A questo punto non mi resta che attendere la loro fuoriuscita dal terreno e quindi il loro sviluppo, in attesa che diventeranno abbastanza grandi da poterli trapiantare direttamente nel terreno con tutto il pane di terra. Quindi a questo punto anche voi cosa aspettate? Siamo nel periodo giusto. Compratevi anche voi i semi dei fiori che preferite avere nel vostro giardino o sul vostro balcone o davanzale. Come avete visto è molto facile. Come avete visto è molto facile. Ciao e una buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.